Ciao a tutti ragazzi, buon giovedì e bentornati a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Proprio come lunedì scorso, anche oggi iniziamo da Activision e Call of Duty Advanced Warfare, il nuovo capitolo della serie appena annunciato. Activision ha infatti parlato un po' della storia, sarà ambientata nel 2054 e avrà inizio subito dopo un incidente terroristico definito il nuovo 11 settembre. I giocatori saranno nei panni di Mitchell, un marine che presta servizio insieme al figlio del CEO dell'Atlas Corporation, che è anche il villain interpretato da Kevin Spacey. Le musiche saranno a cura di Henry Gregson Williams, che già conosciamo per i suoi splendidi lavori sulla saga di Metal Gear. Abbiamo quindi qualche dettaglio in più sulla storia del nuovo Call of Duty. E passiamo invece a Nintendo, che proprio in questi giorni ha annunciato Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Dei titoli non sappiamo tantissimo, se non che si tratta di esclusive 3DS e che usciranno a novembre. Probabilmente ci si può aspettare dei remake degli stessi Rubino e Zaffiro che erano usciti nel 2003 su Game Boy Advance e quindi ci si può aspettare la stessa avventura molto interessante per tutti i fan. Sembra confermata la limitazione al 3D stereoscopico che aveva già caratterizzato X ed Y, quindi ci si può aspettare un gameplay in 2D con la visualizzazione invece delle battaglie in 3D. Naturalmente a breve ne sapremo di più. Ubisoft ha recentemente confermato la data di uscita di Valiant Hearts The Great War. Il puzzle adventure uscirà su vecchia generazione nuova generazione e PC il 25 giugno. Sarà ambientato durante l'oscuro periodo della prima guerra mondiale e sembra presentare delle caratteristiche davvero molto interessanti. Non vediamo l'ora di metterci le mani e darvi le nostre impressioni. Qualche indiscrezione invece per quanto riguarda Microsoft. Arriva dal noto insider Ashin Rashed, meglio noto come Two Way. Sembra proprio che il nuovo capitolo di Halo abbraccerà una struttura quasi open world, così è stata definita. Arrivano anche indiscrezioni riguardo ad un JRPG in sviluppo con una casa esterna, il cui team potrebbe però essere capitanato dal leggendario Hironobu Sakaguchi. Naturalmente vi ricordiamo che si tratta di indiscrezioni le quali hanno ancora bisogno di conferme e naturalmente scopriremo qualcosa di più all'ormai imminente E3 2014 di giugno. E indiscrezioni ben più grosse sul fronte Sony. Un insider che naturalmente ha preferito rimanere anonimo avrebbe messo le mani sull'intero script della conferenza E3 di Sony. Ci sono tantissimi annunci. Si comincia dal nuovo capitolo di Uncharted a God of War 4, addirittura The Last Guardian che sarebbe portato esclusivamente su PlayStation 4, un sequel di The Last of Us e anche alcune sorprese più o meno inaspettate come un reboot di Siphon Filter e un RPG inedito sviluppato da Guerrilla Games. Ci teniamo naturalmente a precisare che si tratta di un enorme rumor, non abbiamo alcuna conferma ma possiamo davvero sperare che sia tutto vero. Man mano che ci avviciniamo alle 3, le indiscrezioni sullo show diventano sempre di più. È il turno di Koch Media che presenterà due giochi probabilmente dedicati solo ed esclusivamente alla nuova generazione di console. Novità anche per Electronic Arts, DICE ha infatti confermato che Star Wars Battlefront verrà portato allo show. Ancora non sappiamo se si tratterà di sequenze di gameplay semplicemente mostrate o se sarà addirittura possibile provare il titolo. Naturalmente tra qualche settimana ve lo sapremo dire. E rimanendo sempre in tema Electronic Arts, la casa ha annunciato un periodo di pausa di un anno per il brand Need for Speed che, lo ricordiamo, in questo momento è in mano alla sussidiare Ghost Games. Il publisher ha infatti considerato attentamente la situazione e deciso di lasciare più tempo agli sviluppatori per rinnovare il brand con un capitolo che stupisca i fan. Microsoft ha invece annunciato i dettagli per la sua conferenza pre-e3. Si terrà il 9 giugno a partire dalle 18.30, ora italiana naturalmente, potrà essere seguita in streaming su Xbox, anche su Windows Phone e sul sito naturalmente ufficiale di Xbox. Alle 18 ci sarà il pre-show che solitamente viene dedicato a titoli minori per poi lasciare spazio invece alle produzioni più grandi durante la conferenza. Noi saremo sul posto a Los Angeles e quindi vi daremo tutte le notizie in diretta. E in chiusura passiamo come sempre alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo a Bungie che ha appena annunciato che la sua presenza alle 3 2014 comporterà anche una prova per tutti i giornalisti presenti del comparto multigiocatore competitivo di Destiny, quindi uno degli aspetti più importanti e incuriosenti del gioco. Noi saremo sul posto, lo proveremo e vi sapremo dire qualcosa di più finalmente sulla produzione. Inoltre c'è stata anche una conferma per la beta che arriverà su PlayStation 3 e PlayStation 4 a luglio, mentre invece su Xbox solo successivamente. E il flop di questa settimana con grande rammarico lo dobbiamo assegnare a Nintendo. Infatti la casa ha annunciato i risultati per l'anno fiscale chiusosi il 31 marzo. Con soli 310.000 Wii U venduti nel ultimo trimestre si conferma un trend davvero negativo per la casa. Le perdite sono di 457 miliardi di dollari nell'ultimo anno rispetto ai 350 circa dello stesso periodo nel 2013. I profitti si fermano a 5,63 miliardi in calo rispetto ai 6,26. Ricordiamo naturalmente che ci sono due esclusive molto importanti che stanno per arrivare su Wii U, ossia Mario Kart 8 e Super Smash Bros. Quindi speriamo che possano davvero finalmente spingere in maniera forte le vendite della console. E per la puntata di oggi è tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo lunedì. Ciao!